Ritardi per il metro del mare che negli anni addietro di questi periodi garantiva il servizio marittimo. Sono stati stanziati dalla regione Campania 2 milioni di euro per garantire il servizio ma ad oggi del metro del mare non vi è traccia. L'importante servizio collega i principali porti turistici della Campania tra cui quelli cilentani. Intanto l'onorevole Luca Cascone in un'intervista ai nostri microfoni assicura che il servizio partirà a brevissimo. È stata pubblicata la gara purtroppo abbiamo perso qualche mese perché dall'ultima volta è cambiata la normativa. È stato necessario prima fare una gara per verificare se c'era un operatore che si rendesse disponibile a effettuare il servizio senza contributo. Non ho espletato questa prima procedura di evidenza. Abbiamo potuto pubblicare la gara vera e propria e quindi siamo in attesa dell'intero amministrativo. Speriamo per il metà di luglio di essere pronti.